Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale, come sempre quest'oggi una cosa particolare, ho un ospite, un amico di lunga data, Antonio, e con lui parliamo dell'impatto che ha avuto il Covid-19, la brutta pandemia che ci ha colpito in questo periodo, su quello che può aver avuto appunto sui libri professionisti, come Antonio, per cui faccio una piccola intervista con il mio vecchio amico di vecchia data, perché lui è vecchio, io sono giovane come potete ben capire, e partiamo subito con, insomma, con qualche domandina semplice, molto semplice, facile, 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 allora Antonio, raccontaci di te, cosa fai nella vita? Ciao, ciao a tutti, io faccio il fotografo e il videomaker, mi occupo di seguire tante aziende, sono un libero professionista, come detto tu, e niente, se devo anticipare la prima domanda, cioè che effetti ha avuto questa questa situazione surreale in cui ci troviamo, ha avuto un impatto sicuramente forte, perché il loro, oltre che con aziende che hanno una programmazione di tutte le loro attività, lavorano anche con eventi spot, cioè praticamente tutti gli eventi aziendali o legati alla comunicazione, ispirato di moda, amato di moda, qualsiasi cosa, quindi, oddio, i matrimoni sono programmati a dir il vero, però, insomma, tutti gli altri tipi di eventi che si fanno di settimana in settimana o che ti chiamano all'ultimo minuto, per esempio, che nella vita del fotografo sono molti e sono stati inevitabilmente cancellati o rimandati, però sto rimandati, andato da destinarsi, quindi non è che sia proprio una cosa rassicurante. Passando un po', sempre ritornando alla tua vita privata, come hai sviluppato questa passione per la fotografia, per il montaggio video, cos'è che ti ha portato a prendere questa decisione nella vita? Allora, mio papà era un appassionato di fotografia e quando ho avuto un'età abbastanza consapevole da scoprire le sue macchine fotografiche, gli ho chiesto di prestarmele e lui effettivamente me le ha date senza senza preoccuparsi, io non l'avrei mai fatto. Quante gliene hai distrutte? Non gliene ho distrutte neppure una, se devo essere sincero, perché ci tenevo tantissimo, però sì, è stata questa qui la cosa che mi ha fatto partire. Poi però quando ho capito che insomma, mio papà era un autodidatta, quando ho capito che insomma, se volevo fare qualcosa di più, dovevo studiare tutta la cosa, ho deciso di iscrivermi a una scuola di grafica pubblicitaria alle scuole superiori e poi in seguito dopo questo, per approfondire proprio i discorsi delle produzioni video, mi sono iscritto all'università, ho fatto un concorso al Dams e SOS. Dams, quando tu ti iscrissi, se vogliamo sapere, iscrivosti, all'epoca c'era solo, mi sembra, Cosenza e Bologna. E poi c'erano, sì, ce n'erano, in realtà i prof di Cosenza erano gli stessi che avevano fondato quello di Bologna, quindi avevano sicuramente un know-how notevole e lo hanno portato lì. Devo ammettere che io mi ritengo molto, molto fortunato, perché penso di essere uno dei pochissimi che riesce a lavorare con cui, con la laurea che ha conseguito, insomma, molti altri miei colleghi hanno totalmente cambiato mestiere o non sono riusciti a impiegare il loro titolo di studio, insomma. Ok, tornando invece al tuo lavoro, la tipologia di lavoro, come impatta la tua vita, tipo gli orari che fai, la tua vita privata, i tuoi divertimenti, c'è qualcosa che è stato impattato da questa tipologia di lavoro e che ti ha cambiato la vita completamente e quali sono, diciamo, la tua routine, com'è che è fatta la tua giornata media? Allora, la mia routine non esiste, come quella di nessuno, di nessun fotografo, di nessun videomaker, a meno che non lavori presso una struttura come una televisione, dove si hanno effettivamente dei processi produttivi schedulati e diciamo molto molto precisi, ma quando uno è improprio ed è praticamente da solo bisogna prendere tutto quello che c'è, quindi ci sono delle giornate full, ma full veramente, in cui si parte a una certa ora e non sai quando finisci. Quindi questa qui è una cosa che a me non disturba, se devo essere sincero, ogni tanto sì, ma la maggior parte delle volte è quello che ho scelto di fare, quindi non mi pesa. Quindi non è un lavoro, è più portare avanti una passione, è più che un lavoro vero e proprio? Questa è una domanda da un milione di dollari. Ecco, se ce l'hai mi fai un versamento. In titoli, come ti devo pagare? Dato che tu sei... Proprio poi, obbligazioni, azioni. Epitedoro. Epitedoro, sì. No, allora, io non ho una vera routine. Io ho un metodo di lavoro che è basato sul fatto di... Non te lo so neppure descrivere. Cioè, ci sono dei periodi in cui avriono dei lavori totalmente inaspettati. Totalmente inaspettati. E quindi bisogna prenderli, cercare di farli al meglio, prima possibile. Che è molto difficile. L'organizzazione gioca un ruolo fondamentale in questo tipo di lavoro, immagino? Allora, l'organizzazione in questo tipo di lavoro è vista in un modo particolare, della serie che devi organizzarti tu a non sforare. Perché è molto facile sforzare quei tempi in questo mestiere, che ha tantissime incognite. Per esempio, quando si fanno le foto industriali, le foto delle macchine, così, molte volte ti trovi di fronte a delle cose fisicamente grandi. Quindi magari tu pensavi di fare una cosa abbastanza... Sì, l'ho già fatto. Invece ti trovi di fronte a un macchinario industriale gigante e dici... E qui ci vogliono qualche cosina in più, qualche luce in più, qualche attenzione in più. Quindi è facile che... Hai detto al cliente che ci avresti messo, non lo so, una giornata per fare una foto e poi una settimana, dieci giorni per la post-produzione. In realtà ti servono una giornata solamente per impostare il set. Poi fai delle prove e poi la post-produzione è un po' più lunga. Però bisogna evitare questo, ecco. L'organizzarsi in questo mondo è visto così. Cioè cercare di... di non sforare con i tempi perché quando si fanno queste cose passa il tempo alla velocità della luce. Anche perché ogni volta che ho fatto un lavoro, anche adesso e anche proprio in questi giorni, mi sono trovato sempre di fronte a problematiche nuove. Inaspettate magari. Inaspettate perché dici... Ah ma io pensavo ma invece... E adesso che facciamo? Eh, devi farlo in qualche modo di saltarci fuori. E invece per... No, orari o... Non esistono. Negli eventi sì, per esempio. Perché negli eventi ti dicono l'evento inizia alle 7. Quindi devi essere qui alle 5 e mezza. E quando finisce? Ma dovrebbe finire intorno alle 11 di sera, alle mezzanotte. Quindi tu sai che è a luna, meno male, sei in macchina. E poi alle 3 di notte devi dargli le prime foto. Quindi sì, negli eventi è abbastanza schedulato come cosa. Quindi conciano gli eventi abbastanza pesanti, diciamo, come lavori. Ma sì, dai, è pesante perché devi stare in ballo tante ore. Però alla fine si conclude più velocemente. Proprio perché ci sono questi tempi velocissimi. Non è questione di giorni, è questione di ore. Per tornare invece al mio canale, in cui mi occupo di finanza personale, investimenti, risparmio. Tu hai mai messo giù una strategia che sia essa di risparmio di investimenti, anche non solo relativa a mettere soldi da parte, ma magari a usare alcuni soldi per investirli nella tua professione? Guarda, io non ci ho mai pensato attivamente nella serie Rivolgermi a qualcuno. È un periodo, ti dico la verità, che c'ho quattro soldi conservati. Mezza pepita d'ora, non di più. Trenta denari. Trenta denari, maledetti. E ci stavo pensando. Semplicemente perché ho un'età ormai, ho quasi 40 anni, quindi non dico che vorrei arricchirmi, però per stare tranquilli e non dover, non so come dire, avere la preoccupazione che se succede qualcosina, non hai aiuti, insomma, non si sa mai. Certo, se diventassi benestante non è che mi farebbe schifo. Ma non penso a nessuno, in realtà. Invece investire proprio nel tuo lavoro, cioè in attrezzature, in corsi di formazione, investi in questo senso? Quello si fa continuamente, perché una volta i fotografi erano quelli che potevano permettersi l'attrezzatura, quindi su 100 fotografi che c'erano, magari 80 erano non bravissimi, proprio perché magari avevano soltanto i soldi per comparsi l'attrezzatura, ma non avevano una scuola o una formazione minimamente adeguata, quindi lavoravano comunque, lavoravano comunque a tutta forza, anche perché appunto erano pochi, che una volta, per farti capire, l'attrezzatura che ho io, ho quattro macchine fotografiche, delle luci, delle produzioni medio-piccole, che comunque mi consentono di vivere. Una volta comprare queste cose, avrebbero voluto dire, spendere 100-150 milioni di lire, ce l'avevano in pochi, questi soldi, o magari, non lo so, comprarti solo un paio di macchine fotografiche e farti uno studio, avrebbero voluto dire, una spesa sui 50 milioni di lire. Chi ce li aveva, lavorava, chi non ce li aveva, no, faceva l'assistente. Però invece adesso che è cambiato tutto, che le cose costano molto meno, ci sono appunto tutorial, formazione, gratis praticamente, e molti hanno la passione come me e si mettono a studiare, e molti hanno anche delle capacità, quindi hanno dei talenti che riescono a mettere frutto, quindi bisogna aggiornarsi e stare a passo coi tempi e anche comprare attrezzatura molto più spesso di prima. E invece, se una persona al giorno d'oggi volesse entrare in questo settore, quali consigli potrebbe ricevere da te? Ah, direi di studiare, di studiare tantissimo e di prepararsi soprattutto, proprio perché ci sono molti, 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 sia fotografi che producer, gente che fa contenuti, ce ne sono molti e sono tutti molto bravi, quindi bisogna studiare e cercare di prendere da più parti, ecco. Verticalizzare le esperienze e le competenze è una cosa sicuramente buona, però rischi che rimani solo lì, quello è il problema. io sono un po'... Formarsi ad ampio spettro magari, quindi non solo in una determinata cosa, ma essere un po' più versato. Trasversale, trasversale. Per cui quali possono essere, secondo te, gli impedimenti che puoi incontrare chi inizia magari a sfondare in questo ambiente? Quali sono gli ostacoli possibili che puoi incontrare? Gli ostacoli sono magari il fatto di essere aggredibili subito, poi un altro ostacolo magari può essere appunto che non hai la preparazione, quindi questo qui è un ambiente in cui appena fai una... Ah! Ho messo il bip. Appena fai un passo falso sei subito quello incompetente che non capisce niente, me lo dovevi dire prima, che sta cosa non lo sapevi fare, ti bruci abbastanza velocemente se dovesse essere sincero. E poi un impedimento potrebbe essere il fatto di chiudersi in se stessi, cioè di fare... di diventare uno che si fa le sue foto, le sue cosine, potrebbe essere a cazzo se le mette a posto, le pubbliche, e ciao. Invece io penso che questo qui sia un... anche se ci sono i social, eccetera, però sia comunque un mestiere basato sulle relazioni vere, sulle relazioni umane, reali. i social aiutano di brutto, sono contavancari. Però io mi sono trovato tante volte anche... come dire... non dico a chiudere contratti o a fare affari, però a... a trovarmi nel posto giusto perché comunque cerco di stare sempre nelle situazioni. Ok. Si parlava prima della pandemia, adesso tu sei a casa, come hai influito questo? Riesci a lavorare anche da casa oppure hai avuto un calo drastico e non riesci a lavorare in nessun modo, diciamo? Allora, io devo essere sincero, avevo tantissime cose alle trate, tantissime. Quindi io non c'è stato un giorno in cui non abbia lavorato, ho lavorato ogni giorno. Chiaramente ho lavorato non con lo stesso orario di prima, cioè... lavoro abbastanza con un modo, come si dice, annacquato, dilatato nel tempo, lavoro con più calma. Però effettivamente sono tutte cose che avevo fatto nell'ultimo mese. Rieseguo anche delle società per cui puro i social e quelle le continuo a fare ogni giorno. Dedico tutte le cose che dedico a prima il tempo, eccetera. Cioè, io sto al computer 8-10 ore al giorno come prima, però devo ammettere che se non avessi avuto questi lavoretti che ho fatto prima e dovevo mettere a posto, le mie giornate sarebbero molto più... Noi volte! Sì, perché cose nuove giustamente. C'è qualcuno che mi ha chiamato e mi ha detto avevi un'idea di fare una cosa così... Io ho detto sì, però... non si sa in realtà quando guagliamo. Non lo può sapere nessuno. Beh, prima di lasciarci, se qualcuno volesse raggiungerci e usufruire dei tuoi servizi, dove puoi contattarti? Hai un sito? Hai un book da qualche parte? Una pagina tutta le... Io ho una pagina Facebook e una pagina Instagram e adesso te le linko se vuoi. Le link... O meno che non faccia passare dei titoli di sovraimpressione qui. Li farò passare io, però magari se vuoi dirle quali sono così uno può anche scrivere. Beh, su Facebook Antonio Pupa Foto e su Instagram Antonio Pupa Foto e sul link di Antonio Pupa. Facilissimo. Per cui nessuno può dimenticarlo. Nessuno. Beh, prima di tutto ti ringrazio per essere stato con me questo pomeriggio. Oggi è domenica 5 aprile e speriamo che questa pandemia finisca se un po' e tu possa ritornare di nuovo sul mercato a cavalcare le tue 44 ore di lavoro giornaliere. Grazie. Per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima volta. Linea allo studio! Linea allo studio! Ciao! Barbara D'Urso, ciao! Una storia tristissima! Ma anche felicissima! Col cuore! Col cuore! Ciao! Ciao! Ciao!